di moto mondiale bentornati a un'altra puntata di voti in libertà finalmente torniamo a fare voti in libertà Manuel Manolo Pessino è stato in vacanza per 50 giorni che faccia che faccia che tali italiani come state allora Manolo io sto guardando le olimpiadi sto guardando guardo tutto ma la Spagna c'è perché non la vedo mai no la Spagna è un boicotto mondiale contro la Spagna ah esatto è un biscotto un biscotto contro la Spagna anche nel calcio vanno a vincere sempre nel calcio Spagna solo vale nel calcio è grande allora voti in libertà Gran Premio di Gran Bretagna Manolo che Gran Premio di Gran Bretagna è stato per te dammi una nota le dammi una nota già al Gran Premio? se vuoi sì non l'avevo preparato in generale è un 6 però come mai 6? ho avuto una cosa che mi ha piaciuto tantissimo eh che è il ritorno di Nea Bastianini ah grande grande per me solo quello già merita un 8 o un 9 però il resto del Gran Premio è stato un po' connoioso no? sì Gran Premio è un po' connoioso però devo dire che il Gran Premio cioè la pista è affascinante il post è affascinante secondo me non so come la pensi tu ma secondo me è affascinante e poi abbiamo sentito che nel mondo esiste ancora un po' di fresco che in Italia e in Spagna non esiste più questa è buona questa è buona e poi che altro insomma e poi vabbè ci sono state delle cose particolari cominciamo proprio da quelle perché questa cosa qua Giovanni sabe lo che mi succedeva quando entrava in Silverstone per la mattina? io ricordavo il circuito di Valencia eh perché? perché sta tutto così in Valencia e basicamente il parcheggio di Silverstone è tutta l'area del circuito di Valencia verrà? o sea circuiti come Misano, Valencia sono piccolissimi eh sì certo quello è enorme, brutale, grande aspetta un attimo Leo rispondi eh scusa che qua devo eccomi scusami eh è vero, è vero questo è vero, è bellissimo assolutamente è enorme, è enorme solo per andare della entrance al parcheggio sono non lo so eh cinque minuti eh eh va bene, va bene allora cominciamo da questa perché secondo me è stata un'idea meravigliosa le moto con le livree speciali allora io do dieci elode alla Dorna perché secondo me è stata un'idea veramente meravigliosa molto ben fatta molto ben realizzata da tutte le squadre è stata una una operazione molto convincente secondo me sì no l'idea di Dorna è stata bellissima e alcune squadre lo hanno lo hanno eh come si dice gestito più seriamente che altre alcune hanno veramente ma però dopo in non lo so se domenica si ha visto poco di questo non lo so se era una occasione per vedere eh le moto che stavano indietro non lo so anche io capisco che la tv deve mostrare quello che succede in La Ponta sapere però eh domenica mi ha mancato un po' un po' di una come una realizzazione un po' differente però è per è per dire qualcosa diversa no l'idea sì allora intanto vabbè abbiamo intanto Simone dice peccato però che sia il 76 anno su questo qua sai che c'è una grande discussione il 75 76 sia il 75 76 comunque l'idea è stata bella è un'idea costosa perché comunque tutte le squadre hanno dovuto rifare le carenature hanno rifatto l'abbigliamento e quindi insomma sono stati messi dei soldi veri eh per fare questa cosa sì tu e io abbiamo fatto colazione con William Faber a Yamaha e lui ha esplicato che l'idea ha cominciato in marzo a fabbricarsi l'idea in marzo e stiamo in agosto ha avuto lavoro no perché come si dice la ropa tutto quello non si fa in due settimane ok va bene va bene comunque insomma secondo me è stata una una buona idea gioia dice Yamaha vince per la bellezza dei meccanici ai box sono d'accordo gioia anche le tute dei meccanici di Yamaha sono state realizzate tutte sono state disegnate da Aldo Drudi Aldo Drudi che ha disegnato anche la Ducati la Ducati ufficiale la Ducati ovviamente VR46 la Ducati del Team Resini ha disegnato la Honda se non mi ricordo male ne ha disegnato un'altra ancora che adesso non mi viene in mente ma poi mi verrà in mente sicuramente va bene va bene Giovanni io non sapeva questo a D'Aldo perché ha avuto alguno tipo veramente la VR46 per me è stato bruttissimo e pensare che tutto è uscito del stesso studio a me mi stupisce e beh poi però devi mettere assieme delle richieste delle esigenze no delle idee e dopo insomma chiaro che devi poi accontentare accontentare tutti tra l'altro per esempio alcuni sponsor non hanno accettato di cambiare il logo insomma quindi è chiaro che bisogna insomma bisogna fare dei compromessi è chiaro questo però insomma secondo me è stata una buona idea intanto saluto e ringrazio tutti quelli che sono collegati allora prima di andare allora io ho preparato come al solito un po' di fotografie eccetera non ho preparato niente di moto 3 e moto 2 perché non sono riuscito a trovare delle foto interessanti comunque moto 3 l'ultimo giro è stato strepitoso strepitoso e per una volta e per una volta David Alonso ha fatto secondo invece che primo comunque insomma un gran ultimo giro un grande nepa come l'hai visto tu no ha stato lo più interessante sportivamente parlando del fin settimana e quello del moto 3 è stato bellissimo e Ortolà sta forte Ortolà sta forte e Alonso ha sorte perché lui sfrutta il vantaggio che ha preso le gare prima perché adesso Ortolà sta forte Colin Vager è quello che sempre arriva e muore in la spiaggia come noi diciamo lui nada nada e sempre muore in la spiaggia però adesso ha un gruppo un gruppetto di piloto di moto 3 che realmente fanno le gare le corse interessantissime sì bello bello mi piace Giovanni importante pulite è vero è vero ultimamente vediamo delle gare di moto 3 e vediamo il comportamento dei piloti della moto 3 più corretto di quella della moto cp ma dopo ci arriviamo a questo allora Alonso l'anno prossimo sarà in moto 2 giusto sempre con il team Aspar è già deciso e il team Aspar avrà Olgado e Alonso per l'anno prossimo in moto 2 sì Daniel Olgado sì che già Daniel Olgado è stato campione del mondo junior con Aspar vuol dire che lui ritorna al team Aspar ok tu Davide allora ultimamente Manolo vediamo i piloti della moto 3 fanno un po' fatica in moto 2 Guevara per esempio che è stato fortissimo in moto 3 Guevara non si capisce Foggia uno che ha fatto due volte battuto una volta da Guevara una volta da Costa insomma ma non non ci si trova poi vedi come si chiama il compagno di squadra di Foggia adesso mi sfugge del pilota di Taltrans questo ha sido una trappola per lasciarmi Morera Morera Diogo Morera fare una trappola per io passare vergogna no no Diogo Morera sta andando bene poi è caduto ma sta andando forte tu come la come la vedi Manolo questa cosa uno come David Alonso te lo aspetti veloce in moto 2 da subito io sì ovviamente io credo che è l'unico che è stato veloce subito ha sido Pedro Acosta Pedro Acosta e Raul Fernandez e anche Raul Fernandez esatto e Raul Fernandez io credo a chi io mi aggiungo con la teoria di Bosco con Luca che dice che quello Moto3 non serve non deve dare un passo avanti fare un motor 450 un motor più potente che si avvicina di più alla moto al 675 o 765 765 765 e il passo è troppo troppo grande la differenza è troppo grande allora intanto Piero SSC Piero che saluto sempre con grande affetto chiede come sta Lunetta ci sono possibilità di vederlo in Austria io non ho notizie di oggi però io credo che in Austria ci sarà assolutamente tra l'altro tu so Manolo che hai fatto una intervista con Paolo Simoncelli grande grande e prima ti dico che lui parlando dei piloti italiani lui dice che lui dice che Lunetta è quello che manca al motociclismo italiano che è un pilota cattivo un pilota che non le importa il social Giovanni il social ha diventato un incubo per tutto per tutto il mondo no i piloti un incubo è un incubo è quello per esempio nel caso di Isan Guevara che detto così sembra impossibile però lui è un obsesionato con il social lui sta nel box con la tuta seduto nel box e facendo selfie Giovanni il team diventa mato osea a Spagna dice basta per quello Isan l'anno prossimo non starà in ese team ok 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 ecco comunque quando è che si potrà vedere questa intervista con Simoncelli sul tuo canale nei prossimi giorni nei prossimi settimane sì no no voglio farlo forse venerdì sabato perché ti dico una cosa te l'ho detto ho fatto la intervista come tu sai per me fare la intervista con Paolo è sempre un poco complicato sì e dopo di fare l'intervista alla notte l'ho sentito nell'albergo ho detto no lo hai fatto mi manca qualcosa il giorno dopo è andato a Paolo è stato super amabile e le ha detto Paolo mi manca parlare più di 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 Marco ti importa e lui dice no lo contrario io quanto più parlo di Marco meglio per me lo faccio in due capitoli ok ok molto interessante va bene invece allora moto 2 per quanto riguarda la moto 2 Canet sembra un po' cioè arriva sempre lì e poi arriva sempre è una figura Canet è una figura è un bellissimo ragazzo sabe quello tutto tatuato tutto può dare l'impressione ma lui è come in portugale si dice come una signorita è un bellissimo ragazzo sì ed è anche uno che va fortissimo forte ma sempre le manca e lui ha detto una cosa molto interessante e quando lui parla è perché lo sente lui dice questa gara non l'ha vinto Dixon l'hai perso io ok 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 è così è assolutamente così però Dixon ha fatto una bellissima gara e sono molto contento per lui come sono molto contento per Vietti finalmente sul podio qual è il tuo pensiero su Vietti? a me Vietti è come non lo so è un come si dice un roller coaster ormai e l'anno scorso a chi a chi no in Silverstone lui ha battuto Pedro Acosta vuole dire che Silverstone è un circuito per lui fantastico speciale quindi vediamo vediamo se questo è l'inizio del recupero di Vietti o è un'inflexione come sempre va bene allora due cose della moto 2 perché allora si dice che Ciantra allora si dice intanto cominciamo dalle cose certe o più o meno certo che Ogura andrà in Aprilia come compagno di squadra di Tracaus come lo vedi tu in Aprilia Giovanni che questo box sarà triste perché Ogura non ride mai è come sarà il box del funerale Raúl Fernández anche lui non ha fatto un allegro per sentire la risa abbastanza difficile Ogura a me mi piace a me mi piace si va forte però veramente una personalità stranissima però bueno l'importante è che loro vanno veloci e dopo parliamo del Tracaus si dopo parliamo aspetta poi si dice che Ciantra quindi andrà al posto di Nakagami in Honda LCL vabbè la tua risposta è già stata abbastanza chiara e invece io questo lo riporto perché non ne so assolutamente niente ad esempio Sandro Natto Grosso e Rosario Triolo colleghi di Sky dicono che Arbolino sarà il nuovo pilota a fianco di Olivera nel team Pramariama invece Pernat sostiene che lì c'andrà Miller però Miller ha detto il mio telefono non suona l'ha detto abbastanza chiaramente giovedì no? cosa sai tu? cosa ne pensi tu? io per un lato credo che si ricordiamo la intervista di Carmelo Speleta di due settimane fa dove dice debiamo come si dice fare un stop ai piloti italiani spagnoli questo non è possibile perché questo deve diventare un sport global vuole dire che il passaporte conta Giovanni e l'unico australiano che c'è è Jack Miller e per un lato per questo Jack realmente sembra che lui non ha benzina nel deposito lui dovrebbe avere un po' di orgoglio e far vedere o no sembra che la sua benzina di MotoGP ha finito e sinceramente e con tutto il rispetto e non perché ma 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 come Chantra no io sono d'accordo sono d'accordo anch'io però io ti dico la verità non prenderei né Arbolino né Miller se dovessi scegliere io Giovanni io credo la verità credo che seria ma interessante prendere un tipo come Roberts per vedere come è credo piuttosto prenderei Joe Roberts sono d'accordo assolutamente o García García che mi sembra uno che mi sembra uno più adatto alla MotoGP allora c'è prima di iniziare a parlare della MotoGP Flugga ti chiede come mai gli spagnoli non tifano molto per Olga Martín sembrano vedere solo Marquez e a costa forse è vero perché non lo so sono tanto spagnoli e sapete lo che succede Giovanni Marquez ha quella personalità e a costa cambia molta personalità e sono quelli che sono attraktivi per i tifosi Jorge Martín è rapidissimo io credo per me adesso ovviamente con Pecco sono le due più veloci del campionato però lui non ha il carisma la personalità questo che fa ai giovani essere interessanti eh sì è così è così a me piace molto devo dire Jorge Martín è un buon ragazzo è un buon ragazzo allora intanto WL46 De Got dice voto due a Zamagni per aver saltato voto in libertà ma è stato Manuel Pessino era sempre in vacanza la ultima volta che lei hai chiamato mi diceva sono nel rumore nel rumore non posso non c'era la linea non c'era non c'era internet sul rumore sul rumore non c'era la linea allora cominciamo con qualche voto della MotoGP aspetta che tolgo la scritta KTM cosa sta succedendo qua in realtà ho preso la GasGas perché mi piaceva includere dentro la costa tanto sappiamo che è sempre la stessa KTM è in un momento difficilissimo economico di gestione della squadra di competitività di risultati insomma come la vedi tu Manolo cosa sta succedendo io credo tu l'hai detto io credo che la crisi dell'azienda sta affettando incluso al reparto corse così lo vedo così lo vedo e loro hanno speso 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 soldi e non è arrivato i risultati questo è lo triste hanno comprato Sterlachini hanno comprato Giribola e invece Giovanni quelli credo che l'abbiamo parlato il fine settimana Acosta ha detto KTM sta ritornando alle sue posti a quelli che hanno mandato via per arrivare alla gente nuova perché 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 con quelli si aveva vinto qualche gara adesso non si vince non si vince nulla e a un certo punto ha ragione tutti quelli degli ultimi due anni hanno arrivato per fare un passo avanti e questo passo non è successo è lo contrario hanno ido non so se indietro ma hanno perso il livello dove c'era per me per me posso stare almeno come risultati perché magari invece è stato fatto un lavoro di affinamento di selezione non lo so provo a chiedere ecco comunque il voto alla KTM è basso secondo me è molto basso un 5 e ti dico una cosa parliamo dame un momento per parlar della KTM te voy a explicar tu sai che Acosta ha andato alla Austria tutti sappiamo che lui ha andato alla Austria si come può essere che un ragazzo di 19-20 anni rookie da questo passo e Brad Binder va in vacanza no se si me entiendes si tu sai perché io credo che Pedro Acosta sta preoccupato con su futuro Binder sappiamo che tu a Binder le das una qualcosa e lui va e fa il massimo possibile però sembra che lui non sta involucrato non so se si capisci no si 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 è un'involuzione invece che un'involuzione si perché Acosta sape che il futuro suo futuro in questo momento sta così e poi c'è un fattore Giovanni che l'anno che viene arriva l'enemico numero uno della costa che si chiama Terminal de Guerre è il nemico numero uno assoluto tra l'altro scusami ricordo che trovate sul canale il podcast l'intervista che ho fatto con Fermina Aldeguer il giovedì di Silverstone devo dire che mi è piaciuto molto ho imparato a conoscere un po' meglio quindi se volete un po' conoscere Aldeguer vi consiglio di ascoltare il podcast scusami Manolo quindi loro sono proprio nemici sono della stessa dello stesso paese della stessa città giusto no della città no della regione della regione sì però di verità loro sono rivali al cubo al cubo come si dice con un tre al cubo al cubo e desde che sono bambini in tutte le gare o sea immagina Pedro che è tutto il mondo Pedro 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 arriva Aldeguer in una Ducati Giovanni e le bate fin del mondo è il fin del mondo ecco però Gioia dice sì però questa è l'opinione di Gioia non è così forte Fermin non sono paragonabili io non sono d'accordo secondo me Fermin Aldeguer è uno molto forte molto forte forse non è a livello di Acosta ma con una Ducati la sua testa non è come quella di Acosta tu hai parlato tu hai parlato con lui lui è meno ambizioso meno determinato forse perché Acosta è barbaro lui Acosta lo tiene chiarissimo chiarissimo va in Austria va non so che fa qui perché lui dice io volevo sapere perché io non posso fare le linee che faceva prima di Barcellona perché ricordate che tutti noi wow le linee che lui fa e lui dice perché non posso più fare le cose diverse alle altre che faceva prima e però in quel senso lì la moto non è cambiata o no? non lo so il pilota ha cambiato ha cambiato mira basicamente lo che io non so ovviamente sono pretensioso per dirle qual è il problema il problema secondo me il secondo è sentito è che la KTM non ha come si dice non ha saputo sfruttare il potenziale del nuovo neumatico dietro quando quando si quando incontran il potenziale surge surge il chatter viene fuori viene fuori il chatter in posta su KTM Roberto dice Strelacchini è andato via da KTM oppure è rimasto ma in altro settore e se è andato via dove è andato allora non è stato rinnovato il contratto quindi lui fino a ottobre è ancora un uomo KTM ma di fatto non lavora più per KTM e dopo ottobre secondo me probabilmente ci sono delle probabilità che possa tornare in MotoGP secondo me ci sono delle possibilità e invece Piero dice secondo voi a costa potrebbe pensare di cambiare moto nel 26 allora Piero fermi tutto io ti voglio bene perché SSC Piero sono affezionatissimo ma non cominciamo a parlare adesso del 26 che già mi viene l'orchita a parlare del 25 sei d'accordo Manolo? con Gesù Cristo non lo fai per noi lo fai per Gesù Cristo e la croce dai allora invece scusa dimmi no no perché Loris Fabri lui lui credo qui dice esattamente quello che che la situazione è per me defermina lo stesso talento di Acosta si eccolo Acosta ha piuttosto e cattiveria è lo che voleva voleva dire nel mio italiano di merda però era questo no no ma si l'ha capito si l'ha capito ecco invece Roberto dice che Acosta ha un leader e KTM deve seguirlo sei d'accordo? ricordiamo che comunque è un leader ma ha solo 21 anni ed è comunque il debutto in MotoGP cosa pensi tu Manolo? lui lui non è un barco a vela che si deixa portare dove lo porta il vento ok entiendes a lui il vento non mi porta lì Ivani tu l'hai sentito domenica dopo gara no domenica non l'ho sentito perché non so se ne sentire è un altro esempio di come la sua testa perché lui dice è uscito con il neumatico il medio e non mi ha funzionato non se che deviamo cambiare il sistema dentro del KPM come se lavora e lui lo explica dice quelli che passano alla Q2 e che in la practice del sábado mattina non si giogano nulla quelli deberi provare differente neumatico per che dopo le informazioni se puoi condividere quelli come mi ha successo a me che deve fare la Q1 loro stanno centrati in fare la Q1 ma quelli che stanno sapere un ragazzo di 19 anni dice prima dice dobbiamo esigire esigire esiste in italiano sì sì e dopo dice bueno no esigire no vamos a chiedere però lui tiene clarissimo sì sì dice noi dobbiamo esigere no è meglio chiedere però insomma il concetto è quello lì assolutamente ma Gabriella mi segnala che nel dopo gara su KTM a Costa ha detto non importa quello che dico ma che tu mi ascolti ha detto questo ma so meno ma so meno ma quella è la sua mentalità ok allora intanto saluto anche vai un collega nostro spagnolo che è molto vicino a Mark Marquez le ha contato a Mark Marquez la forma di parlare di di Pedro e Mark ha detto lui è matto lui non conosce gli austriaci grande allora comunque il voto alla KTM tu hai dato 5 se non mi sbaglio vabbè no io le darei un 4 Giovanni sono d'accordo anch'io il momento è veramente molto complicato allora passiamo invece ad Aprilia ad Aprilia io ho scritto solo Spargarò perché allora Aprilia ricordiamolo a Silverstone ha ottenuto il suo primo podio a Silverstone ha vinto l'anno scorso Alecce Spargarò va forte ha fatto terzo nella sprint ha fatto una poll strepitosa però in gara vabbè le Ducati hanno fatto un altro lavoro però se si è visto solo Spargarò cosa sta succedendo in Aprilia secondo te? non lo so Giovanni però chapeau con Alecce Spargarò voto 8 almeno sì lui parla troppo forse dice cose fuori fuori del contesto però è un professionista non è un campeone del mondo nulla non vamos a dare le virtù di che lui non ha però la seconda non Ducati che era Pedro Acosta credo che stava a 7 secondi e gli altri non lo so deve prendere un calendario per sapere quando è arrivato no no Alecce chapeau io pensavo che adesso che lui si va a fermarsi che lui va a essere più conservatore lui ha una vergogna sportiva che non hanno altri sinceramente e Aprilia a me Aprilia è desconcertante è lo che succede con Aprilia ecco esatto perché voglio dire critichiamo KTM ma purtroppo non è che Aprilia sta facendo tanto meglio è vero che Aprilia a differenza di KTM comunque ha vinto tre sprint se non sbaglio ha vinto una gara insomma fa delle pole eccetera sicuramente meglio di KTM però da come era iniziata adesso mi sembra che si siano allontanati da Ducati invece che avvicinarsi gioia vergogna esportiva vuole dire che non è vergogna esportiva in spagnol si dice quando uno come si dice amor proprio io sono e io lo faccio non è vergogna di avergognarsi la expresione in spagnola è diversa scusa Raul Fernandes la teoria di Raul perché dice no la moto la ha sviluppato a leche espargata con un estilo di guida vecchio che oggi non so che lo dice lo dice anche Vignales in parte non lo dice così ma si 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 poi cambia il estilo di guida e fa almeno quello che fa il tuo compagno del squadro ma esatto si aspetta Debora dice orgoglio sportivo esatto esattamente questo esattamente questo grazie Debora allora ecco ma già che allora adesso SSCPI adesso l'ho perso no ecco lui dice ma secondo voi quanto è merito di Ducati e quanto è di merito di KTM Aprilia io credo che però Ducati insomma abbia fatto un passo in avanti durante il corso della stagione cosa che Aprilia e KTM forse non hanno fatto quindi 50 e 50 cioè la Ducati ha dei grandi meriti ma Aprilia e KTM non sono state capaci comunque di andare dietro questa è la mia idea come la vedi tu io io credo che il demerito è della cioè la KTM per me è andato indietro l'Aprilia si è mantenuto e la Ducati è un'altra cosa ok allora diamo il voto all'Aprilia e poi andiamo a parlare di Trackhouse che volevi fare due considerazioni e all'Aprilia è che l'Aprilia il voto se lo tienes che dare all'Age all'Aprilia le darei un 7 no incluso un poco di più Giovanni ha finito nel podio e la sprint è questo e ha fatto la pole quindi alla fine secondo me l'Aprilia in questo momento è limitata più dai piloti che dalla moto io una volta va forte uno una volta va forte l'altro ma non riescono mai ad andare sempre forti tutti assieme e per l'amor di Cristo Redentor l'Aprilia ha quattro moto in pista no ha due moto in pista o una e media perché Vignales un giorno quando si alza il sole l'altro dia sta lavorando all'Age contro otto Ducati signor così è impossibile è impossibile avanzare cioè non si può sono d'accordo quindi però diamo il voto all'Aprilia io gli do otto all'Aprilia otto all'Aprilia e a Lace le daria un otto e medio esatto ecco e invece cosa volevi dire di Trackhouse hai detto voglio parlare del team Trackhouse prima ti sarai già dimenticato ormai no il team Trackhouse non hanno completato un giro alla gara non si ha visto le cadene del Trackhouse e dopo Giovanni se pressione dentro del team del Trackhouse perché se tu vedi la moto non ha nessun sponsor zero zero e la forma di gestire di Trackhouse è la tipica forma gringa tipica forma americana non è come Gressini o come Cecchinello che hanno tanti sponsor piccoli no che quello completa un budget e io so che a Trackhouse è arrivato un sponsor medio e di America hanno detto non mi interessa loro vogliono un sponsor uno e non se quello forse funziona negli Stati Uniti però qui nel MotoGP e se c'è pressione 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 perché Giovanni gli americani sono così alle fine dell'anno vanno a vedere i numeri a ver quanto abbiamo pagato per questo qual è il costo di questo tipo sì io credo che loro non abbiano problemi economici però perché la struttura è molto solida da quello che io però Giovanni Justin Marx in alcun momento va a dire a chi che passa certo però è anche vero come segnala qualcuno per esempio anche Gresini non ha sponsor la stessa Aprilia non ha sponsor non è che abbiamo tutti questi sponsor nel per se tu vedete tutti o quasi tutti meno uno credo il team satellite sono italiani e loro saben sobrevivere sobrevivere sono il maestri di sobrevivere no? sì 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 il americano non lo se io supongo che in Stati Uniti che lui corre la NASCAR lui deve avere un sponsor così forse la politica non funziona il MotoGP se non lo ha nemmeno l'Aprilia come tu dici allora torniamo a altri voti io ho messo un nuovo Martin o no nuovo Martin perché comunque lui qui non era esplosivo come lo è stato in altri gran premi in qualifica ha fatto leggermente fatica tra virgolette in gara era veloce ma ha saputo accontentarsi di due secondi posti ecco è anche così che si vincono i mondiali è questo un nuovo Holger Martin secondo te o no Manolo tu come la vedi no perché Holger Martin è uno quando fa un buon risultato e dopo è un drama come Shakespeareano quando fa non era tan drammatico in Germania sembrava che lui tenia che era un psichiatra perché cadeva sempre della stessa maniera qui fa un buon risultato e non esiste né excesso di drama né excesso di euforia il campionato è lui è in testa al campionato Manolo mi sembra solido quest'anno sì però lui animicamente lascia affettare troppo per il risultato di una gara sì cioè è troppo condizionato dal risultato singolo invece che guardare questa è una differenza che accompagnai secondo te assolutamente il drama in Germania era un drama sembrava che il mondo aveva finito e poveretto è caduto l'ultimo al penultimo giro che era in testa lui sta in corsa lui fa corsa desde che tiene sei anni deve capire come funziona questo ok e quindi in generale al di là della gara che voto dai Orghe Martini io comunque gli do un bel nove a Orghe Martini sì sì ha stato bene ha stato molto buono ha stato molto ok intanto Piero dice proponete da una parte della carena Zamtube dall'altra persino GP cosa dici Manolo sarebbe bello eh sì però io già sape io della destra e tu della sinistra come deve essere no ah beh sì chiaro chiaro ovviamente ovviamente va bene va bene allora quindi Orghe Martini comunque lo promuoviamo alla stragrande allora vado ah no aspetta aspetta ho sbagliato ho sbagliato perché prima ne voglio mettere un'altra prima di parlare di Bagnaia volevo andare a recuperare di Gian Antonio che però non avevo preparato assolutamente la 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 fotografia vediamo se viene fuori adesso di Gian Antonio allora di Gian Antonio guarda eccolo qua che buona foto eh questa foto è meravigliosa lui che si guarda da bambino allora di Gian Antonio io ho dedicato un approfondimento eh venerdì se non mi sbaglia di Gian Antonio perché devo dire che mi ha conquistato Manolo di Gian Antonio io ero uno di quelli che consideravo poco di Gian Antonio non pensavo che fosse un pilota così forte invece mi sono ricreduto mi piace tantissimo come personaggio è uno che non cerca scuse nel 2025 avrà la GP25 ecco eh cosa ne pensi tu come pilota mi ha sorpreso credo che come a tutti meno a a se stesso no immagino vero vero sapete che lui è ogni volta sembra più forte è sicuro lui è è capace viene da dietro e vai avanzando sai vai gagnando posti quanto fanno questo Giovanni quanto viene dietro e va sorpassando senza grande no lui viene arriva sorpassa va 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 e dopo e questo la parte esportiva sta tutto dentro e la parte di personal lui non ha cambiato perché sta facendo bene sigue siendo il stesso di già normale è vero è super amabile e sempre sta bravo gli già sta dando una lezione di di come deve essere un sportivo allora adesso aspetta che c'era però Mick che faceva una critica brutta il gesto ad Alex però un po' inizia a sentirsela troppo ricordiamo che c'è stata questa sfida di sorpassi contro sorpassi contro Alex Marquez di Gian Antonio non ne aveva chiaramente di più come si è visto poi a fine gara e ha fatto segno seguimi ecco io non l'ho trovato come un gesto così brutto tu come lo vedi di Manolo però nulla e Alex Marquez ha detto dice lui rideva dice quando uno ti fa così tu in la siguiente curva le metti la moto esatto lui non si ha a lei Alex per nada si ha sentito offeso tutto ottimo bravo hai fatto bene a specificarlo allora voto a di Gian Antonio secondo me un bel otto se lo merita si si un otto oggi stiamo generosi adesso attenzione che ti faccio una provocazione Manolo attenzione alla fine secondo te allora te ne faccio due di provocazione due con la GP23 si può vincere una gara no allora secondo te no allora quindi però già la risposta mi incasina perché la seconda domanda era nel caso tu dicessi sì vincerebbe prima una gara vincerà prima una gara di Gian Antonio o Mark Marquez Mark Marquez Giovanni ok allora io sono d'accordo sulla seconda e non sono d'accordo sulla prima ma questo è un altro argomento però sai perché non puoi vincere una 23 perché con la 24 sta un tal Pecco Bagnaia un tal Elia Bastianini un tal Jorge Martini ah ok allora siamo d'accordo allora su questo siamo d'accordo assolutamente d'accordo siamo assolutamente d'accordo allora adesso andiamo a parlare di Bagnaia aspetta che tolgo sempre la scritta Bagnaia io ho scritto ci può stare questa è la caduta nella sprint o no tu come la vedi tu sei di di quelli che dicono no Bagnaia è il più forte ha la moto più forte non deve cadere oppure sei come dalla mia parte che dice ci può stare io dico che ci può stare perché abbiamo visto in questa stagione che sono caduti tutti è caduto Martina è caduto Bagnaia è caduto Marquez quelli forti cadono tutti ci può stare vuol dire che non lo capisco ci può stare voglio dire è una cosa normale si cade non è uno sbaglio credo che lui è caduto cinque volte no cinque volte ha avuto un problema tecnico credo è 5-0 lui ha 5-0 una volta è stato tirato giù da Binder una volta ha avuto un problema tecnico lui ha fatto tre cadute credo sue se non mi ricordo la volta lo ha votato Mark Marquez ricordati eh sì lì si sono però lì lì la polemica la polemica lì un biscotto lì un biscottone è vero si vede il zero che lui ha sta bene però non lo so mi sembra in questo aspetto forse un po' fragile sabes lo che ti dico io perdono di più una caduta di Martín che una caduta di Pecco ma questo perché ritieni Pecco più forte di Martín perché Martín è un esplosivo atomico è un pilota che noi conosciamo come guida è una bomba e Pecco è un pilota con più esperienza due volte campione del mondo deberia in mia opinion in questo è il punto debole di Pecco per me ecco io credo ripeto vediamo che con queste moto con questo campionato con queste gomme con tutto quello che volete con i tempi che si fanno io credo che sia molto più facile cadere rispetto a qualche anno fa anche dei piloti super forti come secondo me Bagnaglia è un super campione e quindi io dico ci può stare però è chiaro che lui su questa cosa è forse l'unico aspetto che deve migliorare forse è l'unico aspetto che deve migliorare sì perché mira se tu lo piensas immaginate a Pecco questo fantasma sempre sta presente quando lui va solo va sempre sta alla possibilità alla possibilità ok va bene va bene va bene allora voto Bagnaglia ricordiamo che poi allora perché guarda Bill fa questa considerazione in ogni caso ci si può permettere più zero nella sprint nella gara lunga Pecco è caduto poco come per dire in effetti la sprint è comunque veramente il suo limite perché nella gara lunga lui è caduto soltanto in Portogallo in quel l'incidente in quel contatto con con Mark Malketz è interessante è interessante lui la sprint è un suo limite ecco l'abbiamo visto anche se ne ha vinte tre consecutive o comunque insomma è sempre stato veloce ecco però poi in gara ha fatto terzo e secondo me comunque ha fatto un buon risultato considerando la caduta nella sprint considerando che non era perfettamente a posto che voto daresti a Bagnaglia cioè che voto dai a Bagnaglia le doi un 6 un 6 sì io sono d'accordo secondo me sì 6 la sufficienza comunque la merita ampiamente Giovanni ha una cosa che lui ha detto dopo a me mi chiama molto l'attenzione perché lui ha detto dobbiamo cercare chi ha successo perché Enea era più veloce che io non so che non so quanto lui tutte le risposte la cerca tecnicamente a me questo mi 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 chiama molto l'attenzione perché lui tutte le risposte per le sue delle cose che non capisce la cerca con il tecnici ok beh che mi sembra un buon metodo sì sì per questo ti dico lui è muy así e in cambio Martini come ti dico Martini va 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 di otra manera sono due personalità differenti e lui sempre cerca la risposta e la tecnica allora ad esempio Ivan dice 5 perché non va a riprendere la moto quando cade allora io questo è un cavallo di battaglia di Manolo di andare a prendere la moto però ci sono certe situazioni che puoi andare certe che non puoi andare secondo me è chiaro che Marquez ad esempio uno più portato ad andare lo ha fatto anche anche domenica poi non è riuscito a ripartire ma ci ha provato comunque questo è vero e invece un altro ad esempio Salvatore dice e tra matrimonio altre cose non era in forma ecco ho visto anche altri commenti che parlano del matrimonio io non ci credo che stava qua zero per come conosco io Bagnaia vuol dire lui ha fatto festa per carità ci mancherebbe altro quel giorno lì ma non è che si è distratto da quello per come lo conosco io io questo ne lo commento Giovanni ok non voglio commentare queste cose va bene invece Gavino dice Martin 4 non è un campione non vince nemmeno se corre da solo ecco io non sono d'accordo per niente con questo commento cosa dici tu Manolo andiamo avanti andiamo avanti allora andiamo a parlare di Bastianini allora Bastianini gara meravigliosa 10 lode dai ha fatto ha vinto la sprint prima fila ha vinto la gara insomma stupendo quindi il voto è 10 lode allora secondo me la curiosità da sviscerare con te può vincere il titolo allora prima della tua risposta vado a vedere perché io ho fatto un sondaggio su questa cosa qui ah interessante perché dice la gente allora aspetta eh ho chiesto risposta secca può giocarsi il titolo o no è a 49 punti da Martin allora sì se lo può giocare secondo il 67% degli appassionati 6-7 no non ha nessuna possibilità per il 33% io dico sì se lo può giocare perché per me Bastianini un Bastianini in forma cioè un Bastianini tranquillo è il Bastianini di domenica è uno che può vincere e lo può fare alla grande secondo me quindi per me sì la risposta è sì se la può giocare sì per me se la gara di Silverstone dobbiamo aspettare se ha sido una infezione casuale o questo stiamo ante una nuova versione di Bastianini 20-24 ovviamente sì questo è l'inizio di un nuovo Bastianini tranquillamente potrebbe giocarsi il titolo perché lo che abbiamo visto questa domenica ha dominato lui ha dominato con mano di ferro con pugno di ferro grande mi piace poi a me convince tantissimo quando lui vuole superare supera difficilmente lui fa fatica a superare in questa MotoGP che sappiamo essere complicata eccetera lui se può superare supera lo fa è tosto a me piace tantissimo Bastianini tu sai che Mark lo ha analizzato domenica dopo gara con i giornalisti spagnoli che le hanno chiesto come tu esplicas che Enea sempre finisce l'ultima con il dietro così bene e Mark che lo ha studiato dice sì sì credo che le ultime dieci gare lui ha stato sempre il più veloce alla fine della gara e quindi lui fa una cosa molto strana che lui gira e torna molto veloce ma con un angolo senza molto angolo cioè lui fa delle curve molto veloci ma non piega così tanto la moto questo consuma meno le gomme e dice il proprio Mark dice questo sembra una contraddizione dice però lui lo fa dice io non so come ma lui lo fa e ovviamente Mark lo vede la telemetria chiaro chiaro lo vede i dati e sì Mark non lo ha fatto perché lui è un copiatore e perché non sa vai farlo ah beh chiaro sì perché un conto è vedere i dati anch'io posso vedere tutti i dati che voglio ovviamente sto esaggiando ma ci sono delle caratteristiche di guida che fai fatica comunque a replicare anche se sei un campionissimo come Mark Mark questo è assolutamente fuori discussione quindi Bastianini voto 10 rode e si può puntare al titolo questa è la sintesi facciamo questa sintesi sei d'accordo? io aspetto alla prossima gara ok no la prossima no Giovanni attenzione 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 no Red Bull Ring sempre è stato casa Ducati sì mi ha detto un ragazzo di Bursia che non posso dire il nome che stava in Austria testando la moto 2 mi ha detto che stavano testando Pedrosa e Paul Espargaro e che le due moto volavano no e ti dico e te ne aggiungo ancora allora una cosa che la moto di Paul Espargaro avrà un motore differente rispetto a quelli che stanno utilizzando i piloti ufficiali e questo non c'è per questo e va a essere una gara tra KTM e Ducati ma senti io ieri in dopo GP con l'ingegnere Bernardello e Nico Cereghini ho fatto una provocazione parlando della prossima gara sai che io sono uno di quelli che sostiene che comunque ci sono troppe le Ducati in pista eccetera eccetera non voglio tornare a questo momento però mi piacerebbe vedere 8 Ducati ai primi 8 posti in Austria e secondo me non è impossibile ma no non è impossibile hanno fatto 8 8 Ducati nei 10 a Silverstone in Austria ti ricordo che hanno sempre vinto la Ducati ha sempre vinto in Austria penso che la KTM a chi? a Pedro Acosta a Binder e a Paul Spargaro no? sì anche me le altre due le altre tre vabbè Paul Spargaro non puoi non puoi mica pensare che possa vincere no? no vincere no ma stare quelli 10 primi sì ok ok vabbè però è una bella sfida se ci pensi o no sì 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 però tu hai mai detto che l'ingegnere da linea nemmeno va all'Austria no non lo so probabilmente ormai non c'era in Germania perché io scherzo sempre con l'ingegnere da linea ma ormai se lo può anche permettere di stare a casa io ti dico immagina se lui non va lo preoccupato che sta allora prima di passare all'ultimo tema che sarà naturalmente quello che scatenerà l'inferno allora prendo qualche considerazione di qualcuno che fa dell'ironia che io non condivido Mauro dice con la 24 Pecco dovrebbe avere 100 punti di vantaggio ma scusa Mauro Orge Martin che moto ha la 24 Enia Bastianini che moto ha la 24 Morbidelli che moto ha la 24 non è da solo ad avere quella moto lì perché dovrebbe avere 100 punti di vantaggio sei d'accordo Manolo o no? No mi gustaría sapere qual è l'argomento che questo tifoso dice o qual è l'argomento che lui ha per dire questo no? E' lui che deve esplicare l'argomento non è del contrario esatto esatto e poi prima di andare al tema caldo io volevo chiedere Giovanni sono cattivi a chi uno Bastianini e Martini sono mediocre che mi esatto vabbè ma questo no però scusate questo veramente io secondo me credo che io rispetto rispetto le opinioni di tutti ci mancherebbe altro però insomma Gavino io credo che un pochino di rispetto per dei campioni che hanno vinto dei mondiali perché sia Martini che Bastianini sono dei campioni del mondo hanno vinto delle gare in MotoGP secondo me un pochino di rispetto bisognerebbe averlo secondo me poi dopo ripeto amèn Giovanni amèn ognuno ha la sua opinione ma per carità lasciamo stare allora no prima di di passare all'argomento caldo Honda Yamaha Manolo perché tutti noi diciamo che Yamaha è meglio di Honda che comunque sta facendo i passi meglio di Honda fa la strada più giusta a guardare i risultati però non è che sembra che sta Yamaha così tanto meglio di Honda tu come come la vedi ho parlato teta a teta a due con Quartanaro di questo perché ha avuto un test a Mugello ha avuto un test a Mugello con Andrea Dovizioso che c'era lì veramente e hanno arrivato dieci dieci giapponesi del Giappone dieci più sei ingegneri che stanno in Italia vuole dire che la Yamaha lavora il Quartanaro mi ha detto loro stanno lavorando tanti vanno al Giappone ritornano fanno questo e lui mi dice ma io non vedo una luce dice con tutto quello che fanno almeno un piccolo passo io dovrei sentire la moto e mi dice Manuel è uguale non succede nulla dice non posso come si dice reclamare non posso non posso lamentarmi lamentarmi non posso lamentarmi perché io vedo che loro lo stanno dando tutto ma nada cambia e questa è la frustrazione del Quartanaro e dice comparato con prima gli anni primi il lavoro è mil per cento di più l'esforzo sta la determinazione c'è però cambia nada questa è la tristezza è questa è la tristezza assolutamente perdona Giovanni perdona io stava pensando in questo che mi diceva Quartanaro però mira è che sabe come deve sviluppare la moto un pilota perché Rins non sta non hanno team satellite e come si chiama Crutchlow sta distrutto fisicamente come si può evoluire la moto con un 12 che ha un anno e medio che non andrà in moto non è possibile non è possibile sono d'accordo sono assolutamente d'accordo a proposito di Rins una moto Ducati tiene 8 motos la Yamaha tiene una moto in pista una ma a proposito di Rins io ne ho parlato anche con Mere Galli in diretta per parlare della conferma di Rins e gli ho detto ma è brutto da dire ma avete preso in considerazione le sue condizioni fisiche perché a vederlo purtroppo a vederlo nel paddock fa impressione povero Alex mannaggia però loro dicono ma sulla moto lui non è non ha problemi ecco io non sei non ha problemi noi no Giovanni che te che te va a decirme i regali ti va a dire lo contrario no ho capito però l'avranno preso in considerazione questo fatto anche loro giusto per immaginare però Giovanni però si sta clarissimo la telemetria non dice la differenza che ha tra il quarto a raro e Rins non si vede noi che lo vediamo di fuori e loro che hanno tutti i dati ma ciò vamos in fin a mim io solo di vedere a Alex Rins camminando nel paddock a mim mi dà un calafrio mamma mia è impressionante è impressionante comunque ha una voglia una determinazione un coraggio complimenti da qualche punto di vista voto 9 ad Alex Rins perché continua non si tira mai indietro allora siamo arrivati all'argomento caldissimo prima di parlare dell'argomento caldissimo qual è il tuo giudizio su Mark Markets in pista dopo parliamo dell'argomento caldo in pista è una caduta nella sprint e un buon secondo me un buon quarto posto in gara allora io ho fatto però questa considerazione che allora lui è sempre il primo tra i piloti con la GP23 al traguardo e quindi su questo non gli puoi dire niente io però credo che in questo momento faccia meno la differenza con i suoi compagni di squadra rispetto al passato cioè in onda lui con la onda ai suoi compagni di squadra gli dava una pista o gli dava dieci posizioni a Dijan Antonio ha dato meno di un secondo come la vedi tu? ah buon dato mira io 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 credo che Mark si sente impotente impotente capisce o no? la impotenzia di tutti noi aspettavamo un Mark diverso con la Ducati tutti noi va a vincere la prima gara va a vincere dieci in fila immagina anche lui e per noi è una decezione per lui è una impotenzia Giovanni io credo che lui sa che non può che non può che non può e tiene che accettare che con la 23 non sarà capace di fare quello che lui pensava che è che è capace che pensava lui che era capace di fare è così per me è così ok però quindi che voto gli dai al Gran Premio di Mark un un cinque no dai per me la sufficienza la merita no cinque non è sufficiente un sei un cinque un sei sei è sufficiente almeno in Italia sei è sufficiente in Spagna cinque ah no sei dai sei 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 Giovanni una cosa tu sai che Germania io ho fatto la scuola tedesca e l'uno è il massimo è il massimo sì sì e il zero nostro è un sei eh vedi i tedeschi vanno tutto al contrario tedeschi sono tedeschi va bene allora adesso l'argomento caldo che mi ha attirato purtroppo un sacco di polemiche un sacco di critiche che io veramente faccio anche fatica a digerirle però l'argomento è questo attenzione perché io sabato ho fatto un approfondimento dicendo tutti contro Mark Markets tensione alle stelle ho raccontato quello che è successo in sala stampa siccome so benissimo che tu come esattamente faccio io non hai visto il mio video quindi non sai assolutamente quello che dopo giusto giusto come faccio io con te peraltro ecco vorrei che tu raccontassi cos'è successo sabato io sto qua zitto non dico niente ti ascolto voglio sapere come hai vissuto tu quello che è successo in sala stampa sabato e per quello che io ho detto tutti contro Mark Markets se è vero ho esagerato ho detto una minchiata ho detto una cosa giusta come la vedi sì no ha avuto un consenso generale con una critica brutta contro contro a Mark contro Mark no perché mira si può aspettare che i piloti della VR46 sono critico con Mark si aspetta ok si può aspettare Aleish ha stato durissimo durissimo ha detto anche parole che forse forse non di aver detto perché ha detto ricordiamolo quella frase ci sono piloti che venderebbero loro madre per conquistare la pole position e poi per chiedere scusa nel parco chiuso giusto ha detto questo esattamente e dopo altri come si chiama Maverick Vignales non ha disparato direttamente contro Mark sino contro la scena di vedere a tutti quelli piloti MotoGP sulla pista mirando para atrás non mirando indietro ha detto che si castigano ai piloti di Moto3 per questo devono fare lo stesso con MotoGP Pedro Acosta lui si ha detto claramente Mark lui ha parlato proprio di Marquez esatto Mark mi ha pergiudicato a me e a Bastianini perché si è spostato in un posto e Gioan Mir questo è una vergogna io come campione del mondo mi sembra una vergogna quando vedo scene come quelle ecco va bene quindi questo è successo credo che abbiamo parlato non so se se tu l'hai detto in tuo super video che ti ha massacrato non è perché ti voglio dire una cosa e a me questo mi dà mi dà perché sono giornalisti espanoli che loro lavorano con la bandiera invece di con il professionalità e questa toda polemica loro lo portano a lo che fa Marquez non è proibito tutti reclamano che lui ma lo che lui fa non è proibito e il pilota e gli altri dicono non è proibito aspettare un altro pilota nel pitlane non è proibito uscire dietro di altro pilota ma caramba si il pilota che sta davanti si ferma è un chiaro di lasciami in pace mi respeta entiendes e se il che va dietro allora passa a una mancanza di respeto non stiamo dicendo che è proibito perché non è proibito tutti lo ha fatto in un momento il problema è quello è quello di e in Silverstone quello che abbiamo visto è un escandalo è una fila dei piloti tutti mirando per attras indietro no bisogna fare qualcosa lì bisogna che intervengano tu pensi che sotto questo punto di vista miglioreranno le cose con Simon Craffard rispetto a Fred Dispencer o no perché no dici io mi hanno detto no perché lui va in moto fa il giro sulla BMW il giovedì o no se che storia tanto se Giovanni tu hai una sorella che giudice quando uno tiene che giudicare una delle parti mai sta satisfatto è chiarissimo cambierà secondo me Manolo lui è molto più a contatto con i piloti Fred Dispencer ha sempre vissuto in questa bolla di intoccabilità invece lui è a contatto con i piloti Craff lo intendo sa quello che vogliono sa quello che chiedono secondo me possono cambiare ti pongo un esempio con todo mi rispetto perché è una persona che a mi non mi disgusta immagina il giorno che lui decide una cosa che va contro la Ducati a dove sta Tardozzi a vero che dice Tardozzi lo dico perché lui è un esplosivo molto visceral si dice in Spagna molto visceral il momento che lui fa una decisione che beneficia la Yamaha e pergiudica la Ducati amico adiós se hai un craffa o sai o dà te allora intanto Giulia chiede se craffa ha il potere di introdurre nuove regole no lui le deve solo far applicare invece Carlo che è un mio grande stimatore mi dice che polemizzo per una scea di Marquez ma vedi che Carlo già hai sbagliato all'inizio perché io non ho polemizzato contro nessuno io ho riportato quello che è successo sabato senza la stampa te l'ha raccontato mando il pessino senza che lui sapessi cosa l'ho detto io ma silenzio assoluto su Morbidelli che falcia gli avversari allora Morbidelli nella sprint ha fatto uno sbaglio clamoroso secondo me è giusto punirlo con due long lap penalty cosa pensi Manolo sì e curiosamente sabato nessuno ha chiesto a Mark sul Morbidelli e lo primo che dice tutto il mondo accusa Morbidelli ma lui non ha fatto nada di sbagliato nessuno aveva chiesto nada su Morbidelli credo che ti ha detto che ha fatto una lista in Silverstone un sondaggio come tu dici un sondaggio tra i piloti per vedere chi erano i piloti più cattivi del MotoGP più aggressivi diciamo più aggressivi aggerrido che tiene che con la guerra sì 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 e tu sai chi ne sono quattro hanno uscito quattro nombres tutto mi dicevano sì Giovanni facevano così quello e dico sì fuori quello che ovviamente era Mark Marquez il cattivo era Mark Marquez Franco Morbidelli Brad Binder e il quarto chi era? Maria viene il quarto Brad Binder Bezzecchi forse i Bezzecchi i Marco Bezzecchi per i piloti che stanno dentro sulla griglia quelli quattro sono più più aggressivi aggressivi dopo c'è uno che sta nel limite che è Joan Mir ah ok Giovanni questo scusa sente questo questo l'ho fatto venerdì venerdì ha caduto Mark Marquez Morbidelli ha fatto un strike Binder non so che cosa ha fatto il poverino di Bezzecchi stava sul piso Bezzecchi è stato travolto da Morbidelli in questo caso le quattro siamo quasi in chiusura perché fra poco Manolo c'è la semifinale in seguimento del ciclismo c'è l'Italia contro l'Australia non è che posso stare pensi che era nel calcio pensi che era nel calcio scusa mi scusa il borbom borbom allora però Giaco Giordano dice secondo voi come potrebbe essere regolamentata la questione scie 107% del tempo ma basta accordarsi in uscita box tu come la risolverai è difficilissimo è difficilissimo io mi chiamo Manuel non Salomone allora la mia idea però invece io ci ho pensato un po' questa cosa qua io farei che aspetta che Piero dice anche Zarco non scherza non scherza come in fatto di aggressività secondo me perché adesso Zarco è talmente indietro ma anche lui era nella lista nera dei piloti aggressivi è vero è vero allora aspetta che volevo dire no sulla regola delle scie secondo me vediamo se riesco a renderla perché non è così semplice allora se tu fai un giro lento ovviamente entri in pista fai un giro lento sei da solo non dai fastidio a nessuno ok ma se tu fai un giro lento perché stai aspettando una scia lo vedi chiaramente allora nel momento in cui passi sul traguardo sei obbligato a fare un altro giro lento questo vuol dire che ti si raffreddano le gomme e dopo non puoi più spingere quindi sei obbligato a spingere sempre questa è una soluzione che io do non so se è abbastanza chiara se è condivisibile o meno pensateci farò un sondaggio su questo io farei lo siguiente Giovanni io per quello farei uscire ai piloti mira loro stanno così vicini che se tu lo fai uscire del pitlane con 30 secondi già deve girare solo eh sì o anche questo sì questa è un'altra soluzione comunque va bene pensiamoci allora Alessandro Basardi Pecino 25 Italia 25 medaglie sperate adesso arriva l'atletismo che noi siamo bravissimi l'atletismo va bene va bene va bene va bene allora come al solito mi sono divertito dopo l'Austria chissà se faremo voti in libertà chi lo sa Manolo potrebbe essere in vacanza potrebbe essere chissà dove non lo so forse è la isola qui esatto esatto allora ricordo che domani alle ore 18 troverete online MotoGP che passione che è la trasmissione realizzata assieme a Leonardo Zamani che è mio figlio perché Leonardo Zamani ha avuto la possibilità di essere a Silverstone è stato dentro al box speed up di Bosco Scuro insomma è stato coccolato da Aldeguer e da Alonso Lopez e allora vuole dire anche lui la sua secondo me è carino chi è appassionato di moto e vuole seguire il punto di vista di un ragazzo di 12 anni molto appassionato di moto e anche molto attento su tanti aspetti Manolo scusate voglio solo dire che quelli la intervista che hai fatto con con Paolo Cimoncelli va a essere spostata in italiano viva Italia io credo che è buonissima lo faccio in due capitoli e credo che sarà molto interessante bene sono sicuro Manolo non ne posso più di vederti un'ora e 15 minuti di diretta non la faccio non l'ho mai fatta adio Manolo viva la Spagna biscotto biscotto viva la Spagna ciao Manolo non lo faccio per la Spagna non lo faccio per la Spagna non lo faccio non lo faccio ma